Possiamo sederci per cortesia. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ciò sta paginata il Dottor Del Vescovo. Inizia il mister. Che però sta scemando come quantità perché oggi Manolasse e Sciaravi sono in gruppo e si ha la certezza che possano sviluppare tutto l'allenamento in base a quello fatto ai giorni precedenti. Paredes e Salah sono a parte. Florenzi e Nura continuano nel percorso riabilitativo. È chiaro che Salah, come sapete, non sarà della partita. E probabilmente neanche della prossima. Iniziamo con le domande. Inizia Spinelli, Roma Radio. Buongiorno mister. Si parla sempre di derby come partita indecifrabile di base. Quest'anno in più c'è una classifica molto corta sia tra Roma e Lazio che con le squadre che avete intorno. Quanto può incidere questo? E qui bisogna dire subito che Inzaghi è stato bravo con i suoi ragazzi a creare un derby da alta classifica perché le due squadre stanno facendo bene e è un confronto che vale molto in classifica. Poi ci sono anche delle avversarie per cui diventa anche insidioso per quello che sarà l'esito di questo derby. però secondo me come ho già detto precedentemente avere molte squadre che poi mirano e hanno ambizioni importanti questo rende tutto più affascinante rende tutto più bello e non può che goderne lo spettacolo e non possono che essere contenti di quelli che hanno poi la personalità di essere sicuri di delineare la strada che vogliono fare. Matteo Vespasiani Roma TV Buongiorno mister Per lei le assenze non sono mai mai state un alibi fondamentalmente però ce ne sono state anche di importanti di assenze no? Quella di Salah è un'assenza importante allora le chiedo potrebbe decidere vista l'assenza dell'egiziano e l'atteggiamento tattico della Lazio di cambiare modulo da un punto di vista soprattutto di atteggiamento difensivo? Allora prima di tutto qualsiasi modulo che cosa indica e che cosa vuole vuole che si giochi a calcio quella è la cosa fondamentale non il modulo che ha la squadra la Roma ha fatto vedere di sapersi adattare di saper cambiare l'anno scorso in un modo quest'anno in un altro e per lunghi tratti ha fatto ha fatto molto bene in qualsiasi scelta si sia fatta per cui dobbiamo stare tranquilli Salah è il è il campione nell'andare di là e nel partire sopra però la Roma oltre che giocare sopra sa giocare anche basso sa giocare anche in terra per cui noi dobbiamo essere che i nostri comportamenti poi saranno quelli che decideranno come vadano le cose Angelo Mangiante Sky Sport sì eccoci rimanendo su questo argomento l'eventuale avanzamento di Bruno Perez può essere una soluzione per appunto in quel vuoto che lascia lì Salah e poi se questo lavoro comunque che ha fatto individualmente il Sharawi è sufficiente al di là dell'elemento di oggi naturalmente per essere potenzialmente giocatore utilizzabile dall'inizio hai detto due soluzioni che sono possibili tutte e due io ce ne aggiungo anche qualche un'altra che poi è quella di Turbe quella di Totti e noi abbiamo una rosa che ci permette poi di trovare altre soluzioni è chiaro che per quanto riguarda la formazione ragazzi oggi la vedo dura insomma con il gioco delle percentuali ecco c'ho l'un per cento in più in mano io e me lo tengo invece che percentuale riveste in un derby una partita così il fatto che il pubblico della Roma abbia risposto in tono minore al controllo di quello della Lazio che risponderà presente anche con tutta la sua curva ma guarda noi noi calciatori allenatori tutti quelli che lavorano qui dentro vivono nella completa romanità dal lunedì al sabato e compreso la domenica sia che vengano che non vengano allo stadio cioè si percepisce che la romanità è uno stile di vita è un modo di salutarsi è un modo di guardarsi è un modo di incontrarsi è un modo di allenarsi è un modo e questo noi ce lo sentiamo addosso per tutta la settimana per cui non abbiamo bisogno di conferme o di spinte superiori come ho detto già precedentemente il fatto di avere questa seconda pelle che sia vicino che tu l'abbia addosso che sia distante tu lo percepisci lo stesso come si disse l'anno scorso fa lo stesso rumore che essere allo stadio e noi ci sentiamo tutto quel peso dell'importanza che ha poi il giocare o il far parte della Roma come seguito e come come città come tutte quelle belle cose che poi racchiude questo derby insomma ecco Baldiserri Corriere della Sera buongiorno all'esterno c'è un'immagine che naturalmente io lo dico direttamente io passa anche da noi forse soprattutto da noi dai media di un derby cattivo di un derby dove ci sono sempre problemi di ordine pubblico c'è stato l'idea che era bella per avvicinare chiamiamolo cattivo secondo me è meglio non usarlo usiamo dell'eterno contrasto perfetto ieri ho letto forse mi sembra anche un po' un'esagerazione ma di una possibile indagine della Digo su una frase detta dai tifosi della Lazio ecco lei che ne ha giocati tanti ne ha vissuti tanti com'è il derby di Roma e come viene descritto o è una partita di calcio beh prima di tutto il derby per quanto mi riguarda è una partita speciale però si vince come le partite normali partita speciale che si vince come le partite normali è un derby che smuove sicuramente due classifiche che è quella del campionato italiano e che è quella poi di quello che dicevo prima dell'eterno confronto poi di queste due squadre da un punto di vista mio non riguarda solo il derby riguarda il calcio più in generale io in questa settimana ho guardato immagini tu senti frasi discorsi che cercano di motivarti che ho cercato di capire e ci sto pensando se poi alcuni discorsi che vengono fatti è la strada giusta per poi visto che l'obiettivo di tutti è quello di andare a togliere le barriere se questo è l'obiettivo che si vuole percorrere visto che tutti si dice che poi il calcio deve essere un confronto più diretto per quanto mi riguarda se vado poi per come sono fatto per quello che è stato il mio passato per quello che assorbo di più se vado a pensare a quelle cose che che mi fanno piacere che mi motivano il pensiero va subito poi al video di Allan della Ciappe Coenze quando prima di andare a giocare la partita la finale dei loro sogni sono lì che si fanno il video e che sorridono e che trasferiscono questa gioia questo entusiasmo di andare a giocare una partita questa felicità di andare a giocare una partita che mai si sarebbero immaginati di giocare e che naturalmente ti crea quell'emozione poi e quella e quella e quella qualità di cui il calcio penso che abbia bisogno ecco quella è un'immagine che a me rimane più impressa altre immagini mi passano più più velocemente quella è ciò che mi fa più piacere vedere mi fa più piacere sentire e che mi dà voglia poi di arrivare dove erano arrivati loro insomma ecco pensando che in mezzo poi è tutto si svolge dietro a un pallone nel mezzo a tutto c'è sempre una palla non ci sono razze c'è un pallone nel calcio stoppini gazzetta dello sport eccoci salve sono qui sì lei prima parlava di di romanità per quella che è la sua esperienza avere squadra calciatori romani mi riferisco a De Rossi Totti visto che Florenzi fortunato è in questo tipo di partite un punto avvantaggio oppure un minus dipende se si riesce a vincere le emozioni se si mantiene lucidità è un punto avvantaggio se respirando 24 ore su 24 per tutto l'anno quello che è poi il coinvolgimento sentimentale che ti dà poi questa partita qui a volte tu rischi di andare in over per cui sono sempre le qualità dei calciatori che fanno la differenza di saper la personalità di saper valutare tutto quello che sta in mezzo poi come un qualcosa da superare ma non ad ogni costo sempre con una razionalità e con un ragionamento ecco sempre attraverso una solidità mentale come abbiamo detto più volte guido guido dubaldo il corriere dello sport dunque l'ultimo derby con te in panchina la Roma l'ha vinto alla grande 4-1 il penultimo quello prima che andasti via lo perse in maniera analoga 4-2 per la Lazio con te che entra in campo dopo 4 minuti che la Roma è sotto di 2-0 e dice i giocatori calma ecco che cosa trasferisci ai giocatori di questi due momenti di queste due fotografie e questa squadra ha più convinzione di quella che in quell'occasione si smarrì così dopo pochi minuti allora visto il tempo è passato mi ricordo di più dell'ultimo di derby non tanto quello di molto tempo fa però che cosa si cerca di trasferire si cerca di come ho detto prima insomma ecco di secondo me i calciatori della Roma hanno le qualità per vincerlo il derby cioè non è come quando è un po' quello che ho detto a loro non è come quando giochi con il Real Madrid che dici guardate che voi ce la potete fare però è chiaro che nel discorso tu vai a sforare nell'accreditare anche qualcosa in più di quello che dovrebbero fare o di quello che hanno nelle potenzialità i tuoi calciatori o tu cerchi l'eccellenza in più cose per poter poi vincere la partita secondo me in questa partita qui c'è da cercare di essere noi stessi il più possibile ecco la partita è sicuramente una partita difficile perché loro stanno bene stanno facendo un buon calcio sono in un momento di entusiasmo però la Roma le carte in regola per giocarlo per giocarlo alla pari questo questo derby qui ecco per portare a casa il risultato senza far sì che l'addizione dei calciatori ci metta un'altra un'altra addizione di quello che debbono fare individualmente per per poterlo vincere basta riuscire ad essere noi stessi a fare delle scelte giuste nei momenti giusti ad avere la personalità qualche volta di passare anche da bischero e far credere che sei così ma poi ti faccio vedere che te l'ho concesso ma ora io sono fatto in questa maniera qui ed è tutto normale Austini il tempo Salve buongiorno l'impressione è che diciamo l'ambiente Lazio sia interno che i tifosi dia un valore forse superiore a questa partita rispetto alla Roma è un'impressione perché in Zaghi per esempio non so se lei l'ha letto l'ha sentito ha ripetuto più volte io a questa partita ci penso da otto mesi io non so lei da quanto ci pensa e volevo chiederle anche se è un vantaggio dargli tutta questa importanza può diventare un limite che magari voi potete sfruttare dipende come lo recepiscono dipende come lo realizzano io io non ho letto quello che ha detto noi della Roma abbiamo due passioni allora in generale in questo momento ne esercitiamo solo una perché abbiamo lasciato tutto il resto di fuori abbiamo due grandissime passioni che ora tutte le attenzioni vado solo per questa qui perché perché ci interessa questa partita è una partita importantissima ci smuove due classifiche per cui vale tanto questa partita qui e noi gli creeremo l'attenzione che vuole la partita poi è chiaro che fino a tre giorni fa dovevamo darle anche per quelle altre partite perché se Inzaghi con i suoi calciatori è riuscito poi a determinarlo come ho detto prima un derby da alta classifica è perché ha vinto anche quell'altro bisogna dare importanza anche a quell'altro perché se no poi sarebbe stato un derby di meno valore sotto l'aspetto della posta in palio probabilmente come qualche volta è successo però è chiaro che questo qui poi come ho detto prima è il derby della città eterna per cui sarà fino a che ci sarà il Colosseo la Roma ci sarà e di conseguenza penso anche che ci sarà il derby perché ci sarà anche la squadra Inzaghi Lo Russo RDS Buongiorno Spalletti Lei spesso parla della sua squadra fa riferimento a dei cali di personalità di carattere lo dice spesso anche lei dopo alcune partite di cui non era molto soddisfatto mentre a differenza della Roma in questo momento la Lazio ha dimostrato esattamente il contrario viene da diversi risultati utili consecutivi e comunque ha dimostrato una maggiore tenuta mentale può essere questo il divario che la preoccupa di più in questo momento e poi le chiedo se le dà fastidio arrivare ad un derby con la Lazio favorita per molti aspetti secondo me c'è qualcosa che non torna in quella che è la sua analisi perché lo provi a ridire verrà che viene da sé se noi ci sa dei cali di tensione si critica e spesso i risultati non sono quelli che vorremmo perché perché c'è questo e loro invece sono bravi e siamo un punto avanti qualche cosa che non torna c'è perché la classifica dice che per ora di pochino però che loro abbiamo fatto tutto bene e che noi tutto male e che ci sia un punto di differenza insomma la cosa stona un po' però ti vuole rispondere lui però va bene così nel senso che noi dobbiamo migliorare sotto certi aspetti io sto sempre con la mia squadra io voglio bene alla mia squadra io amo i miei calciatori e nell'amore c'è qualche volta di dirgli anche quello che non va bene però io sono convinto che i miei calciatori poi sapranno di volta in volta migliorare quelle cose che necessita il momento e in questo periodo qui abbiamo fatto vedere che non sempre abbiamo messo il 100% soprattutto nelle letture perché rivedendo poi o nelle scelte di squadra perché rivedendo poi le partite spesso si vede che in alcuni momenti si scelgono male però poi non hanno fatto male nella totalità la cosa scelgono male un dettaglio allora è chiaro che si va poi a cercare di parlarsi chiaro perché quello che sono non bisogna nascondersi quello che sono le nostre attenzioni sono attenzioni importanti vogliamo determinare una storia importante e bisogna fare cose importanti per fare cose importanti c'è bisogno poi di avere di avere dei risultati di livello sotto ogni comportamento individuale se la Lazio ci arriva meglio di noi com'era? come ci arriva la Lazio? ci arriva? più favorita ci fa piacere perché ci fa piacere perché sarà uno stimolo in più per riuscire poi ad avere un un livello di confronto per come merita poi il nostro avversario e sarà sicuramente uno stimolo Parigi centro suono sport buongiorno mister si sta allenando da ormai quasi due settimane per Malen regolarmente con il gruppo le volevo chiedere come sta come procede il recupero appena il regime del giocatore e poi se c'è la possibilità di vederlo a sinistra in una difesa a quattro oppure per caratteristiche difficilmente può uscire dal centro Thomas è un centrale che siccome sa giocare palla e siccome ha frequenza di passo è uno nei primi metri molto rapido e ha questa tecnica in rapidità può giocare da tutte le parti però il suo ruolo è centrale sta molto bene sta molto bene nel senso che ha fatto degli allenamenti dove ha messo in discussione il problema che aveva in maniera seria e le risposte sono state positive di conseguenza se venisse scelto lui saprà fare sicuramente la sua parte è chiaro si mette più a suo agio da centrale che non a sinistra ecco Rosso Mando Teleradio Stereo è l'ultima Salve mister io le volevo chiedere se per la partita di domani sarà più importante attaccare bene o difendere bene è più importante fare tutto dicevo prima rispondendo precedentemente alla domanda della tua collega che che la scelta dei momenti diventa fondamentale ecco perché in una partita non puoi far andare tutto in una direzione è una partita dove gli avversari sono avversari che sanno stare in campo e di conseguenza avere la personalità di saper scegliere il momento insomma può fare la differenza ecco è chiaro che però bisogna bisogna sempre pensare allo stesso modo di essere noi stessi in ogni situazione di gioco quello in fondo darà l'addizione poi che porta al risultato grazie a tutti grazie la mia bambina grazie